Una enorme bufala. La storia di nonna annunziata, spellana centenaria che avrebbe ricevuto un risarcimento da 500 mila euro per la nipote disabile a causa di una vaccinazione antipolio fatta a nove mesi e poi lo avrebbe donato interamente in beneficenza, è bollata così dal figlio della signora Aldo, che stamattina raggiunto dalle nostre telecamere nella sua casa di Spello ha chiesto di smentire il racconto letto con stupore e disapprovazione sui media. Sceglie di non parlare al microfono né di far riprendere la sua casa, il signor Aldo che ci ha spiegato come la cifra del risarcimento non sarebbe quella riportata, ovvero di 500 mila euro e l'ultima di tre tranche di rimborsi sarebbe arrivata ormai ben tre anni fa. Inoltre nonna annunziata, sebbene Arzilla e con 100 anni ottimamente portati, festeggiati lo scorso giugno, non avrebbe avuto alcun ruolo nella procedura legale di risarcimento per la quale è il fratello della nipote Daniela, il tutore legale, come ci spiega oggi il signor Aldo, amareggiato per aver trovato una storia molto diversa da quella delle loro vite sui giornali. È comunque una storia di coraggio e solidarietà la loro, considerando anche che la famiglia, dopo aver affrontato la morte della madre di Daniela, ha davvero voluto fare una donazione, seppur di minore entità, quella del pulmino regalata all'associazione Arcobaleno grazie al ricavato della festa dei 100 anni di nonna annunziata, tenutasi lo scorso 13 giugno, alla presenza anche del sindaco di Spello Sandro Vitali. La somma, integrata dalla famiglia del signor Aldo, ha permesso di dotare l'onlus di un mezzo più efficiente. Aldo ricorda come il risarcimento per la disabilità della figlia sia inoltre arrivato molti anni fa, così come la seconda integrazione, giunta quando la moglie era ancora viva. E l'avvocato Marcello Stanca, in qualità di presidente dell'associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati, AME, va seguito alla pratica dal 1992, dando ieri alla stampa una versione del tutto diversa dalla realtà e al quale oggi la famiglia di Spello chiede una rettifica ufficiale per ristabilire finalmente la verità.